Una terribile emergenza, peraltro anche a macchia di leopardo che ha colpito più località del Veneto. Annuncio già che ho già dichiarato lo stato di crisi, quindi avviata la procedura, uno stato di crisi ovviamente aperto nella lista dei comuni, perché poi attendiamo di raccogliere ancora ulteriori indicazioni e di completare la lista come si fa al solito nel giro di un paio di settimane. Ma il tempo in Veneto è stato decretato lo stato di crisi. Il governatore Zaia ha firmato oggi il decreto. La lista al momento rimane aperta. Tutti i comuni che hanno riportato danni in seguito al nubifragio che si è abbattuto sul territorio nelle scorse ore potranno inserirsi nella procedura e accedere ai benefici di legge. Finora sono state realizzate 925 opere contro le alluvioni e sono in progressi i cantieri per i grandi bacini, ma la burocrazia sembra frenare. Non è possibile pensare di trattare una cassa di espansione che salva una città come un'opera pubblica normale. Bisogna fare in modo che le opere dell'alluvione, le opere a tutela dal distancio idrogeologico, non diventino materia di uffici legali, di tribunali e di altre robe del genere perché altrimenti non si fanno più.